Ciao a tutti dreamers, io sono Francesca e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo ad aprire insieme gli skifidol pasta geniale nel profumo giungla e mela pesca. Se vi piace questo genere di video lasciate like adesso, cerchiamo di arrivare ai 900 like, iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto e non dimenticate di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica. Quindi ora andiamo al video. Ed eccoci qui, questi io li ho comprati in edicola al costo di 3,50€. Come al solito vi danno il giornalino che io ho rotto. Iniziamo da quello glitter al profumo di giungla. Togliamo la plastica. Questo odora tantissimo di mela, sì, odora tantissimo di mela verde. Sembra che abbia la stessa consistenza della pasta magica. Sì, inizialmente è molto duro, ma iniziamo a lavorarlo con le mani. Quindi questo appunto è un verde che con il mio sfondo non è che dei migliori. Proviamo così, è un verde con dei glitter. Non so se riuscite a vederli con la luminosità. Allora, questo ha la stessa identica consistenza degli squishy pasta magica. Hanno anche la stessa confezione, infatti qui ho uno squishy pasta magica. Questa è la confezione dello Skifidol. Stessa identica confezione. Si allunga, si strizza, si strappa, si modella e non secca. Sono praticamente le stesse cose che faceva lo squishy pasta magica. Quindi sì, è la stessa identica consistenza, soltanto questo è profumato. Profuma tantissimo, tantissimo di mela verde. Proviamo a vedere. Si allunga. Sì, si allunga. Poi si strizza. In che senso si strizza così? O così? Si strappa. Con cattiveria. Riproviamoci. Con cattiveria. Vabbè, tecnicamente sì, si strappa. Non subito, però si strappa. Si modella. Vabbè, sì, possiamo dare qualsiasi forma. E non secca, beh sì. Vediamo anche se rimbalza come rimbalzava lo squishy pasta magica. Sì. Cioè, praticamente identici. Direi a questo punto passiamo al prossimo, che è quello che mi incuriosisce tantissimo. Perché è quello al gusto mela pesca, profumo mela pesca. Qui c'è scritto che cambia colore. E andiamolo ad aprire. Un po' attaccato ovunque, ma questo potrebbe essere anche colpa mia per come l'ho conservato. Forse nella busta si sarà capovolto. È di colore rosso. Ora, cosa si intende con cambia colore? Mi sembra che odori tantissimo di pesca. Ah, ci fate caso, sta iniziando a cambiare colore. Da quel rosso acceso sta diventando più un arancione. E forse continuando a lavorarlo diventerà giallo. Più ci sto giocando, più sta cambiando colore. Sta diventando di un arancione sempre più chiaro. E credo che a un certo punto diventerà giallo. Sì, 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 è diventato giallo proprio. Da rosso. Quindi quando è freddo è rosso. Arancione scuro comunque. Quando è caldo, perché è bollente, diventa giallo. Wow, è fantastico. Quindi ragazzi, questo breve video finisce qui. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete acquistato gli schifidolpasta geniale. Magari anche che gusto mi consigliate di comprare. Lasciate mi piace se questo genere di video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. E mi raccomando, attivate la campanella per non perdere nessuna notifica. Io vi saluto e alla prossima. Ciao! Ciao!